Il cesto per la biancheria è rivestito di questo tessuto melange grigio e questo è grigio più scuro. E' facile, molto facile da montare perché ha questa base che viene inserita assolutamente nella parte inferiore e queste quattro bacchette che vengono inserite in queste apposite fessure per poi essere richiusi da questi strap. Il coperchio viene fissato con questo velcro che però non è centrato, quindi metterlo non è proprio agevole e non rimane benissimo. E poi viene chiuso in questo modo con questi altri due velcri strap in modo che viene chiuso così. Ha due cordicelle laterali per essere trasportato e questo è quanto.